Edoardo Tavassi felicissimo è diventato chirurgo e ha operato, la paziente è in sacco nero. E ora vi mostriamo in questo V-blog l'ultimo divertente siparietto di Edoardo Tavassi, che un po' come era dentro il grande fratello e anche fuori dalla casa. Anzi a giudicare da quello che vediamo la sua inventiva dentro la casa era anche molto limitata. E infatti una volta fuori ha dato spazio a tutta la sua inventiva. Ovviamente Micolin Corvaia è tornata a Roma dopo gli impegni a Milano, infatti dal suo Instagram si vede chiaramente lei che fa un video dove compare lui che gioca al computer. Insomma tutto nella norma mi sembra di capire. E quindi vi lasciamo all'ultimo video ironico proprio di Edoardo Tavassi. Edoardo Tavassi è diventato chirurgo plastico. Edoardo Tavassi è diventato chirurgo plastico e ha operato. È molto orgoglioso del risultato. Ma non ve lo può mostrare perché per le nuove regole la paziente è stata messa in un sacco nero. Lui ignora il motivo ovviamente di questa cosa. Buongiorno. Ho appena effettuato un intervento di mastoplastica additiva. Il risultato è stato veramente veramente bello. Un seno meraviglioso. Volevo farvi vedere il post ma purtroppo sono andato lì per fare la foto e la paziente era già dentro un sacco nero. Non capisco perché. Non so queste nuove procedure. Ma era veramente bello. Peccato. Peccato perché l'avrei voluto per voi vedere. Grazie. 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 Grazie.